Adesso io lo riprendo e poi cosa farne non lo so Buonasera Ciao Posso salutare la staglia pubblica Ciao, ciao L'albero come mai è stato abbattuto? E' ammalato Dico che ce ne dirà un altro a terra che sarà caduto quanto pare a chiudere ma non hanno riparto la facciata Qua è praticamente l'ingresso della scuola Ti conto che alcuni ragazzi vengono in bicicletta la mettono dietro e passano sempre di qua più che la pozzangra è il pozzetto quello e quell'altro vedi bisogno di due ci sono fuori vuota ma qui vabbè più che il passaggio sono ragazzi di scuola media non c'è vedi? nel senso non lo usano per ricreazione no no però qua c'è anche il passaggio per l'ingresso del Ctp infatti vedi che c'è il Ctp